Musica Stiamo facendo un giretto per i tavoli e abbiamo qua Miss Rept Poverino, siccome grande professionista gli stiamo dando fastidio, vabbè Tanto parliamo con un pro serio, Salvatore Bonavera Come sta andando? Adesso bene Non ci si può lamentare? No, perché facendo un giro negli altri tavoli c'erano abbastanza lamentere Volevo capire qua vicino a Enrico Mosca Beh, non è che la mentira è che c'è Enrico, non sta mai zitto, Enrico Mosca Mosca di nome di fatto? Di nome di fatto, sì Mi sto divertendo tanto, devo dire la verità E al tavolo c'è qualcuno che dà fastidio? Sono tutti tranquilli, a parte Mosca? No, nessuno Risate, quindi deduco che... È un bel tavolo, tutta gente seria Molto divertente Meno male, vediamo qua Enrico, ti è stato fatto un complimento, gente seria al tavolo, quindi anche te Ringrazia perché è importante, è un bel complimento No, veramente sto ascoltando musica, non ho ancora parlato, non ho fatto niente Sto ascoltando musica Ma chi è che si è lamentato? Di cosa si è lamentato? No, nessuno, ti stanno facendo i complimenti, Bonavena ti fa i complimenti Eh, ma perché Bonavena mi ha preso praticamente tutto lo stack, quindi adesso vi fai i complimenti No, scherzo Un tavolo tranquillo, ci si diverte, poi ci si conosce in tanti E anche quelli con cui noi ci conosciamo, sono simpatici, la atmosfera è buona, è bella Tutti simpatici sono, per Enrico tanto ha le cuffie, non sente, lui gioca, vede una figura e gioca Eh, è il fatto che non vedo neanche una figura, però gioco lo stesso Grazie, buon torneo a tutti e due Grazie Grazie